Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, anche oggi, unboxing di un drama. Anzi, di un host di un drama, che è DK2. DK2, detto proprio italianizzato. Con Yuna, The Refugee Generation, ovvero la mia ultimate femminile. E il fantastico C. John Wick, che è uno dei miei attori preferiti, ovviamente, nella mia top free. Questo è il fronte e questo è il fantastico retro con tutte le tracklist sotto. Sono 20 canzoni. Guardate la figata di come si apre questa cosa. Voilà! E c'è un altro personaggio sotto. Ok, questo è l'interno. Il fantastico C. John Wick sul disco. Non poteva mancare. Ma guardiamo il mini libretto che si presenta. Boia! Cioè, cominciamo da Dio, vedo. Bellissima questa foto. La voglio sul telefono, però, di me. Madonna, questo drama è tipo uno dei miei preferiti. Mi è piaciuto tantissimo. Cioè, tutti questi drama di cui ho comprato gli ostri mi sono piaciuti tantissimo. Sono tra i miei preferiti, altrimenti non avrei comprati. Yuna, cara, la mia bellissima. Lui due poi mi sono sempre piaciuti, sì, dalla prima puntata. Sebbene era un po' travagliata, ok? E qua ci sono tutti i personaggi, quindi c'è praticamente una specie di identifette per ognuno. Sto schifoso maledetto, vabbè. Se avete visto il drama sapete di cosa parlo. Ah, ok. Qua ci sono tutti i personaggi e il titolo di tutte le canzoni. Bellissimo con le pistole. Boia, è vero che loro due all'inizio erano presi così. Mi ricordo la prima puntata, boia. Più che i capelli lunghi, sì, sì. Mamma, che bello questa scena! Questo qua è comunque un drama di azione, quindi se vi piace un po' il thriller e l'azione fa per voi. Guardate che belli che sono, Yuna è stupenda. Bellissima. C.G. Wook è ancora meglio. Sono bellissimi, certo. Ecco che appunto tra le tracklist c'è la sua canzone. C'è quella cantata da lei che era Amazing Grace. Queste sono altre scene stupende. Yuna è un accappatoio, avrido. C'è già comunque il camicia che tra qua è Sospicious Partner, non so quale sia peggio. Questa è una ricorda di lei che era vestita tipo Arabian. Queste sono altre scene. Cabelli che erano. Ecco qua, questi sono tipo gli stile. Come ci sono in tutti gli host dei drama. Bella Yuna che si fa il selfie con la bambina. E questi sono tipo il backstage. Qua c'è tipo la foto con tutto il cast e tutto lo staff, diciamo. Che meraviglia, va bene. Voilà. Questo era l'unboxing. Fatemi sapere nei commenti se l'avete seguito, questo drama. O se avete intenzione di iniziarlo, io ve lo consiglio. Perché se vi piace Cinja Walk, dovete vederlo in più. L'azione, già se vi piace proprio la generazione, fa per voi. Quindi ditevi nei commenti se magari seguite il Ghost Generation. E quindi avete una guaglias. Le avevo già portate ovviamente nel mio canale perché sono il mio gruppo femminile preferito. E niente che dire. Vi lasciate un like, iscrivetevi al mio canale se vi fa piacere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!